Wuhuu! Hoho! Esatta Mundo! Sarà una pena passeggiata! Fare il leader è davvero stancante! Uffa! Niente panico! Ci serve solo un piano! Chi ha un piano? No! Non te lo permetterò! Se vuoi distruggerli, allora dovrai distruggere per primo me! Questo sì che è un vero colpo di scena! Ci serve anche un po' di umorismo! Al pubblico piace! Vai, Trek, vai! T, T, R, E, K, K, T Davvero sciocco e molto noioso! E' un vero campione? Schiva la roccia! Lo ridurrà come un pezzo di slag! È un po' troppo arrabbiato, anche se glielo chiediamo gentilmente.